E' un'unico modo per mangiare in un paese stretto da quattro anni in una grave crisi umanitaria. Quegli adulti che scelgono di non vendere i figli devono rinunciare loro a mangiare per sfamarli. Secondo l'UNICEF nel paese sono 11 milioni i bambini bisognosi di assistenza umanitaria, 8 milioni non hanno accesso all'acqua, 2 milioni non vanno a scuola, 1 milione e 800 mila soffrono di malnutrizione acuta. La conferenza dei paesi donatori a Ginevra ha messo in luce la catastrofe umanitaria in corso, 10 milioni di persone sull'orlo della carestia, una catastrofe provocata dall'uomo perché all'origine c'è il conflitto in corso nel paese. Fra i primi obiettivi sollecitati, quello di porre fine ai combattimenti, assicurando cibo, acqua e medicine a chi ne ha disperato bisogno. Attualmente vengono destinati più soldi per le bombe che per i civili allo stremo, denunciano le associazioni umanitarie. Fino a oggi il mondo ha destinato 2 miliardi e mezzo allo Yemen. Resta indispensabile consentire l'accesso umanitario, cibo, medicinali, vestiti. Nel paese è impossibile entrare e per chi lotta fra la vita e la morte ormai non c'è molto da attendere.